Cari spettatori. Oggi siamo qui per discutere di un colpo di scena che ha scosso il mondo di uomini e donne. Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island, ha improvvisamente abbandonato il trono. Vi racconteremo tutti i dettagli di questo inaspettato addio e cercheremo di capire i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione. La notizia ha fatto scalpore. Manuela Carriero ha lasciato il trono di uomini e donne, durante le registrazioni del 21 ottobre 2023. Il nostro sempre informato Lorenzo Pugnaloni ci ha fornito queste anticipazioni. Ma cosa ha portato Manuela a prendere una tale decisione? La motivazione di Manuela è che sia Michele Longobardi che Carlo Marini, entrambi corteggiatori nel programma, sembrano non essere interessati a lei. Entrambi erano presenti in studio. E Michele ha perfino consegnato a Manuela una lettera di addio scritta appositamente per lei. Durante il suo percorso nel programma, Manuela è stata oggetto di critiche per alcuni dei suoi comportamenti, giudicati poco appropriati per il contesto. Queste critiche potrebbero aver influito sulla sua scelta di abbandonare il trono. Mentre rimaniamo nel contesto del trono classico, Christian Forti ha condiviso un momento romantico con Valentina, baciandola. Nel frattempo, non abbiamo notizie sulle dinamiche riguardanti Brando e Fricchian. Nel mondo del trono over, Gemma Galgani ha deciso di approfondire la conoscenza con il cavaliere Bruno. Uscendo insieme. Nel frattempo, Silvio e Donatella sembrano aver raggiunto la fine della loro storia. Con una nuova dama di nome Gabriella interessata a Silvio. Gianni ha sorpreso tutti danzando con Roberta di Padua e baciatola. Creando una situazione provocatoria nei confronti di Gemma e Bruno. La stagione di Uomini e Donne, sembra essere ancora una volta un grande successo. Con ascolti eccezionali.